E poi dopo proclamiamo i consiglieri. Prego, Presidente. Il Presidente della Donata è venuto presente il risposto dell'articolo 71,6 del decreto legge del 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale, proclamato eletto sindaco, il candidato alla medissima carica ha ottenuto il maggior numero dei voti, accetta il candidato sindaco, il dottore Vincenzo Iaccarino, con numero voti 4.38. Vengono eletti consiglieri, lista numero 1, piano nel cuore, Rosa Russo, Pasquale Daniello, Costantino Russo, Carmela Cilento, Simona Desposito, Marco Desposito, Marilena Alberino, Sergio Ponticorgo, Mario Russo, Antonio Daniello, Maria Laura Giogargiulo. Per la lista numero 2, avendo il contrassegno Podemus si può fare, vengono eletti consiglieri, Raffaele Esposito, Michele Maresca, Monia Cilento, Maria Cappillo. Per la lista numero 3, Movimento 5 Stelle, Salvatore Mare. Grazie. Grazie a tutti.